Vorrucci, Vorrucci sulla sinistra, per Ivra, Ivra va su terra, Pogba, di tacco, gran pallone, Hernanes va verso la porta, Hernanes il fallo, caccia di punizione, no Pogba, Nargo, Alexandro, parole dentro, attenzione, Quadrado, era poi in rete, a Juventus è contatto, con Quadrado, è dentro la loro 94, Juventus 2, tornerò 1, Quadrado, Quadrado, come l'anno scorso, come con Ipirro, Quadrado, Quadrado, 2 a 1, 2 a 1, la prima renda del colombiano, come l'anno scorso, Juventus 2, tornerò 1, il miglior modo possibile immaginabile di vincere i termini del lavoro, a 3 aprile, nel 2014, 2015, Juan Quadrado, stagione 2015, 2016, 2016, Juventus 2, tornerò 1, nel posto giusto, al momento giusto, Juan Quadrado, 2 a 1, Juve, 2 a 1 per la Juventus, una meraviglia, una meraviglia, vincere il termine della mola è così, 2 a 1 per la Juventus, i derby si ricordano per le sofferenze, i derby si ricordano per le vittorie nei minuti di recupero, avremo un elenco lunghissimo, ma questo è importante, questo è importante per il nostro...